ciao Pino buonasera Verona sai che sei di casa sei che sei di casa stai settimana suona con il mio papà nella musica eh, sei il mio papà nella musica non ho la musica grafica la musica che segora dai, non fa un secondo va facciamo un po' qua io sono pazzo io sono pazzo e voglio essere qui e esci da cuore da casa a me io sono pazzo io sono pazzo e c'è il popolo che mi aspetta e scusate vado di un treno non mi date sempre ragione io lo so che sono un errore nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone e lo so che questa volta non mi deve condannare perché sono pazzo io sono pazzo e oggi voglio cantare e non finirò niente non finirò niente non finirò niente Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. Grazie a tutti.